Diritto del lavoro, video lezione numero 3. Il contratto individuale di lavoro. I requisiti del contratto. L'articolo 1325 del Codice Civile indica gli elementi essenziali del contratto, la cui mancanza ne determina la nullità. Essi sono la volontà, la causa, l'oggetto e la forma se richiesta absustantiam. L'accordo delle parti e i vizi della volontà. Il contratto di lavoro si costituisce mediante l'accordo delle parti contraenti. La volontà espressa nell'accordo deve essere libera e priva di vizi. A tal proposito si distinguono due diverse ipotesi. La simulazione assoluta e la simulazione relativa. La simulazione assoluta si verifica quando le parti fingono, ad esempio per ragioni fiscali o previdenziali, l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato mentre in realtà non hanno intenzione di costituire alcun rapporto di lavoro. In tali ipotesi il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Per quanto riguarda invece la simulazione relativa, questa si verifica quando le parti danno vita ad un contratto diverso da quello realmente voluto e realmente svolto. Ad esempio stipulano un contratto di lavoro autonomo, ma in realtà le parti intendono dar vita e di fatto danno vita ad un rapporto di lavoro subordinato o viceversa. In questo caso sarà applicata la disciplina del tipo di rapporto che le parti hanno effettivamente realizzato. Se però all'origine del contratto dissimulato è rinvenibile un intento fraudolento, trova applicazione il principio della nullità del contratto in frode alla legge previsto dall'articolo 1344 del Codice Civile. La forma. La forma del contratto di lavoro è generalmente libera. La forma scritta del contratto di lavoro o di alcune clausole dello stesso può essere richiesta appena di nullità, cosiddetta forma ad sustantiam, ed in tal caso la mancanza determina la nullità del contratto, ma il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione per l'attività effettivamente prestata. Oppure anche la forma scritta può essere richiesta a fini probatori, cosiddetta forma ad probazionem del contratto. In tal caso la mancanza dell'atto scritto non pregiudica l'esistenza del rapporto, ma ha una ricaduta soltanto sul piano probatorio in caso di contestazione sull'elemento che doveva essere provato per iscritto. A garanzia del lavoratore è richiesta per la legge la forma scritta per particolari contratti di lavoro, come ad esempio il contratto di somministrazione appena di nullità, la determinazione del patto di prova appena di nullità, la fissazione di un termine finale del rapporto appena di nullità e anche il contratto di apprendistato ai fini della prova. Va rilevato che di fatto la forma scritta è largamente praticata in virtù dell'obbligo posto in campo al datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto di lavoro. Tale obbligo è adempiuto dal datore di lavoro mediante la consegna di copia del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro inviata agli uffici pubblici competenti. La causa. La causa è considerata come la funzione economico-sociale che il contratto è diretto a realizzare e nel contratto di lavoro si identifica nello scambio tra lavoro e retribuzione. L'oggetto. L'oggetto del contratto di lavoro è costituito dalla prestazione di lavoro manuale o intellettuale e dalla retribuzione in tutte le sue possibili forme, danaro, natura, eccetera. I requisiti dell'oggetto che devono sussistere per tutta la durata del contratto sono quelli previsti in generale dall'articolo 1346 del codice civile. Quindi la licetà e cioè la non contrarietà a norme imperative all'ordine pubblico e al buon costume. La prestazione richiesta dal datore di lavoro deve inoltre essere possibile. L'oggetto della prestazione deve essere determinato o determinabile. Nel rapporto di lavoro la specificazione del contenuto della prestazione è di regola determinata nella lettera di assunzione che indica le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare. Gli elementi accidentali del contratto di lavoro. A differenza dei requisiti essenziali gli elementi accidentali non sono necessari all'esistenza del contratto di lavoro. Tuttavia se tali elementi sono inseriti nel contratto ne diventano parte integrante ed incidono sulla sua efficacia. Gli elementi accidentali più frequenti del contratto di lavoro sono la condizione e il termine. La condizione rappresenta un avvenimento futuro e incerto che incide sull'efficacia del contratto di lavoro e può essere sospensiva o risolutiva. Se viene apposta una condizione sospensiva gli effetti del contratto si producono solo al verificarsi dell'evento dedotto nella condizione. In presenza invece di una condizione risolutiva il rapporto cessa al verificarsi dell'evento assunto come condizione. La condizione si considera illecita se mira ad escludere le norme limitative dei licenziamenti. La condizione inoltre non ha mai effetto retroattivo e dunque il periodo lavorativo già effettuato vale a tutti i fini cioè retribuzione, anzianità, qualifica, previdenza e assistenza. Inoltre la posizione invece di un termine al contratto di lavoro fa cessare il rapporto automaticamente alla scadenza. Il patto di prova. Con il patto di prova le parti subordinano l'assunzione definitiva all'esito positivo di un periodo di prova. La sua funzione è quella di verificare l'utilità della prosecuzione del lavoro cosiddetta prova bilaterale. Il patto di prova deve risultare da atto scritto sottoscritto anche dal lavoratore con indicazione della durata. Secondo la giurisprudenza se manca la forma scritta l'assunzione si ritiene definitiva. Il periodo di prova ha una durata massima non prorogabile di regola stabilita nei contratti collettivi non superiore ai sei mesi. Durante lo svolgimento del patto di prova il datore di lavoro può in ogni momento recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza necessità di giustificazione. Il contratto a tempo indeterminato, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e le tipologie contrattuali speciali. Trattiamo il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo contratto è il contratto appunto con cui il lavoratore si impegna a fronte del pagamento di una retribuzione a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro a tempo indeterminato cioè senza vincolo di durata. Questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni. Il contratto a tempo indeterminato deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro. Quali sono queste informazioni? la mansione cioè l'insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore, l'inquadramento ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore, la data di inizio del rapporto di lavoro, l'eventuale durata del periodo di prova, l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi con l'indicazione del periodo di pagamento, il luogo e l'orario di lavoro, i giorni di ferie e le ore di permesso, i termini del preavviso in caso di recesso. È possibile che il contratto individuale per alcune informazioni rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro, cosiddetto CCNL, di riferimento. Cessazione del contratto recesso. Poiché questo contratto non ha un termine di durata perché si risolva salvo in caso di accesso alla pensione, è necessario infatti un atto di recesso. Il recesso del contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore o scelto dal datore di lavoro. Il contratto a tempo indeterminato, modificato in ultimo dal Decreto Legislativo 81 del 2015, non è più la prerogativa della stabilità che connotava tale tipologia contrattuale prima delle modifiche del Jobs Act. Il contratto a tempo indeterminato dunque non corrisponde più al posto fisso garantito dai licenziamenti illegittimi. Tutte le assunzioni a tempo indeterminato a seguito del Decreto Legislativo 23 del 2015 devono infatti essere effettuate mediante il contratto a tutele crescenti, cosiddetto CATUC, caratterizzato da un regime di tutela dei licenziamenti illegittimi prevalentemente economico. Ma vediamolo che cos'è questo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Come già detto con il Decreto Legislativo 23 del 2015 in attuazione del Jobs Act è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il CATUC rappresenta la nuova veste contrattuale con cui devono essere costituite nell'ambito privato tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015. Il CATUC è un normale contratto di lavoro subordinato che ha come peculiarità un diverso regime di tutela in materia di licenziamenti illegittimi. La nuova disciplina del licenziamento è caratterizzata non più dalla reintegrazione nel posto di lavoro ma in una corresponsione di una indennità di tipo monetario il cui importo è parametrato all'anzianità di servizio del lavoratore licenziato entro comunque determinati limiti massimi. Le tipologie contrattuali speciali. Alcune tipologie contrattuali pur essendo riconducibili senz'altro alla fattispecie del lavoro subordinato tipizzato dall'articolo 2094 del codice civile differiscono dal tradizionale modello del contratto a tempo pieno ed indeterminato. La specialità può infatti derivare dalla causa del rapporto. Tali sono i rapporti di lavoro a contenuto formativo quale ad esempio l'apprendistato. Tale specialità può derivare anche dalla durata o collocazione della prestazione di lavoro ad esempio il contratto di lavoro intermittente ed il lavoro a tempo parziale. Ma tale specialità può derivare anche dal contesto in cui la prestazione di lavoro è resa come lavoro domestico, lavoro a domicilio o telelavoro oppure dalla tipologia di attività dedotta in contratto. Lavoro giornalistico, lavoro marittimo ed aereo, lavoro dello spettacolo, lavoro sportivo, portierato eccetera.